La sassofonista Carla Marciano apre questa sera alle ore 21 il cartellone del Salerno Jazz and Pop Festival organizzato dal Conservatorio Statale Giuseppe Martucci di Salerno presso il Teatro Augusteo che vedrà in tre giorni ben cinque concerti. Con il suo stabile e affiatato quartetto, la Marciano ha raccolto l'eredità del bebop e l'ha elaborata in uno stile evoluto. Con lei sul palco il pianista Alessandro Lacorte, il contrabassista Aldo Vigorito e Gaetano Fasano alla batteria. In apertura si esibirà il Gregory Dudzinski Quartet e a seguire Carla Marciano. Domani spazio all'esibizione del Martucci Jazz and Sambol diretto dal maestro Giulio Martino e a seguire Antonio Onorato Trio che si esibirà insieme ad Aldo Farias a basso elettrico e a Mario De Paola alla batteria. Domenica sarà il giorno dedicato alla sezione pop con l'esibizione di un ospite d'eccezione, Antonella Ruggero, tra i membri fondatori del Matia Bazar che proporrà i suoi grandi successi con Francesco Buzurro, Nicola Gianmarinaro e Giuseppe Milici, Osvaldo Loiacono, Gio Gagliardo, Marco Genovese, Enzo Augello e Filippo Di Pietro. L'ingresso alle prime due serate è gratuito.